Guardando quest'immagine, che cosa significa secondo te? Commentandola Dovevo ricambiare comunque il pensiero carino che mi hai fatto lo scorso anno per i miei 32 anni, quindi auguri di buon compleanno sapendo che sei uno dei più grandi fan del grandissimo Renato Zero è quello lì che ti fa gli auguri e allora ringraziamo ancora il nostro Mauro Mario Mariani grazie per essere stato con noi e allora adesso dalla soccolata passiamo invece ad un altro argomento che auguri per tutto lo studio